Allora, sono le 22.32, direi che iniziamo con questa edizione della GM News. Un saluto a tutti i nostri amici, cittadini, concittadini presenti. Un saluto anche ad Assessore Consiglieri, a Renato, Silvio, Stefano, Federico, Antonella e Susi, che sono qui con noi. Allora, iniziamo di consueto con il primo punto, che riguarda l'aggiornamento sui contagi Covid. A Gorla Maggiore in questo momento ci sono 188 persone positive. Devo dire che abbiamo monitorato il numero di persone positive negli ultimi sette giorni e c'è stata una crescita sicuramente importante, ma molto più lenta rispetto alla scorsa settimana. Siamo passati negli ultimi tre giorni da circa 170 contagi a 188 contagi. Quindi questa può essere sicuramente una notizia che è confortante, nel senso che probabilmente ci stiamo avvicinando ad un momento di stabilizzazione della curva dei contagi. 188 persone positive, più di 500 persone guarite e purtroppo il nostro ricordo va anche alle persone che sono decedute, ai nostri amici e concittadini deceduti in questi due anni, purtroppo di emergenza. Emergenza importante che continua comunque a minare anche la nostra possibilità di progettare il futuro anche del nostro paese, ma che non deve toglierci sicuramente la serenità e non deve togliere la serenità anche alle future generazioni. Il secondo tema che voglio condividere con voi è il centro tamponi che abbiamo sul nostro territorio. Come sapete abbiamo dato la disponibilità di realizzare questo centro tamponi ATS, quindi legato al servizio sanitario regionale e nazionale. Il centro tamponi si trova in Via Togliatti, nel polo delle emergenze, in quella che è la sede in corso di realizzazione e ristrutturazione della protezione civile. È stato aperto il 13 di dicembre, come vi ho già detto ci sono stati momenti di criticità legati probabilmente ad un fattore che io ho chiamato imprevisto ed imprevedibile, che è il fattore umano. Ed è momenti di criticità che si sono principalmente rivelati durante la vigilia di Natale il 24 e anche il 27. Sono consapevole che ci sono alcune criticità legate alla viabilità, ma localizzata sulla Via dei Chiosi per quanto riguarda il centro tamponi. La protezione civile di Guarda Maggiore è presente in sito insieme spesso alle forze dell'ordine, ma anche alla polizia locale. Cerca chiaramente di tutelare e proteggere anche gli accessi dei cittadini di Via dei Chiosi. Io con alcuni di loro ho parlato, non ho in questo momento oggettivamente la dimostrazione che ci siano dei disagi appunto legati ad accessi piuttosto che alla viabilità interna di quel comparto. Però chiaramente se ci sono delle critiche costruttive, se ci sono comunque delle osservazioni che mirano a poter dare ancora in maniera più efficiente questo servizio che stiamo dando alla nostra comunità, pensate che dal centro tamponi di Guarda Maggiore in questo mese sono passati quasi 400 nostri concittadini e chiaramente migliaia di cittadini della Valle Olona. Quindi mi sento di dire che è un onore per Guarda Maggiore, ed è quello che ho detto anche ad alcune persone che hanno criticato questa nostra scelta, che abitano l'India dei Chiosi, non solo un onore ma è una grande responsabilità da parte nostra e da parte anche della comunità di Guarda Maggiore di rispondere ad una gravissima emergenza. Una gravissima emergenza come questa che io ho paragonato a quella che è la Seconda Guerra Mondiale. Non nessuno di noi, anche le generazioni più anziane di me, ricorda un momento drammatico come questo, quindi io sono convinto che una comunità come quella di Guarda Maggiore abbia davvero a cuore di prendersi una responsabilità così grande e anche di andare incontro ai bisogni dei nostri concittadini, ma anche di tanti altri concittadini. Devo dire che però per il buon funzionamento del centro tamponi occorre che le regole di ingaggio e le regole di rispetto delle persone, dei volontari, anche dei sanitari, siano chiare a tutti. È un momento chiaramente drammatico. In queste settimane insieme agli assessori ed alcuni consiglieri siamo rimasti per tante ore lì al centro tamponi, abbiamo incontrato moltissime persone che attraversavano il centro tamponi con le loro auto. Abbiamo visto persone anche preoccupate, esasperate dal fatto di rimanere per giorni e settimane in quarantena. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare le risposte che possiamo dare. Non siamo e non possiamo rispondere per gli altri enti sovraordinati rispetto a noi, ma insieme ai nostri volontari abbiamo cercato di dare le risposte a tutte le persone che si approcciavano e ci chiedevano con umiltà, con onestà, con anche rispetto quello che avevano bisogno. Allora ci tengo a rammentare alcune regole però che sono fondamentali. Il centro tamponi di Gorla Maggiore è un centro tamponi del Servizio Sanitario Nazionale, è un centro tamponi di ATS, l'azienda territoriale sanitaria, è un centro tamponi che è aperto dalle 8.30 del mattino fino alle 15.30. È un centro in cui si entra attraverso penanotazioni, cioè le persone che si presentano lì arrivano con un messaggio che gli arriva da ATS sul cellulare, via mail, in cui c'è un orario preciso a cui presentarsi. Il centro tamponi apre le 8.30, pertanto è inutile presentarsi alle 7.30 di fronte all'ingresso del centro tamponi. Se tutto funziona è sufficiente comunque un periodo di anticipo limitato di circa 5-10 minuti, non di più. Ora però ci sono stati dei problemi in merito alle prenotazioni, pertanto per far fronte anche al bisogno di persone che non sono riuscite ad avere la prenotazione ma che hanno determinate caratteristiche, che adesso vi leggerò, a questo punto si è pensato di creare una finestra all'interno dell'apertura del centro tamponi destinata a queste persone. Questa finestra va dalle 12 alle 15.30, però occorre molta chiarezza. Al centro tamponi si accede con prenotazione da parte di ATS, quindi vi deve arrivare un sms, vi deve arrivare un messaggio, con prenotazione del tampone da parte del vostro medico di medicina generale, piuttosto che del medico di continuità, piuttosto che del pediatra, e anche con ricetta cartacea del proprio medico di medicina generale. Però proprio questo è il punto, con ricetta cartacea significa non prenotato, pertanto si accede al centro tamponi dalle 12 alle 15.30. Ora, vi chiedo e vi consiglio di non precipitarvi a questo punto per i cosiddetti utenti del centro tamponi con ricetta medica alle 12.00. Generalmente l'orario tra le 12.00 e le 13.00 è l'orario più inflazionato, l'orario in cui si creano delle code all'esterno in cui la coda si allunga. Pertanto diluite, soprattutto per queste persone che non hanno quindi un appuntamento fisso, diluite la vostra richiesta tra le 12.00 e le 15.30. Ad esempio, nel periodo tra le 14.00 e le 15.00 c'è sicuramente meno accesso al centro tamponi. Altra modalità di accedere al centro tamponi, prenotazione di fine isolamento da parte di ATS, piuttosto che prenotazione del tampone di fine isolamento da parte del medico di medicina generale e del pediatra, e anche con esibizione del provvedimento che ricevete di fine quarantena da parte di ATS. Ecco, quest'ultimo è il caso in cui occorre accedere però dopo mezzogiorno, perché significa che non avete un orario preciso a cui accedere. Ecco, questi sono i criteri per l'accesso al centro tamponi di Gorla Maggiore, criteri che trovate sulla pagina Facebook di ASST Valliolona e che trovate anche sulla loro pagina internet, pagina web. Quindi vi chiedo a questo punto di approfondire prima di precipitarvi al centro tampone. In questi giorni ci sono precipitate al centro tamponi ed è stato anche uno dei motivi per cui si sono create a volte delle code più lunghe rispetto all'ordinario e anche un accesso, se volete, quello che io ho chiamato un imprevisto, si sono precipitate nel nostro centro tamponi persone che non avevano la ricetta medica, persone che volevano fare uno screening proprio perché volevano fare il tampone, persone che appartengono a dei contatti cosiddetti stretti, non è questo il caso. Quindi i contatti stretti non vengono a Gorla Maggiore al centro tamponi. Si sono presentate persone che non trovavano la possibilità di fare un tampone in farmacia a pagamento perché erano rientrate dalle vacanze e pertanto a questo punto le prenotazioni erano lunghe e volevano fare uno screening personale. Ecco, mi sembra di essere stato chiaro, ci sono con me anche gli assessori se vogliono intervenire anche per aiutarmi a chiarire ancora meglio e ad approfondire ancora di più questo tema. Benvenga, se ci sono domande fatele, però attenzione, l'altra questione che vi chiedo è né il comune né comunque il nostro numero dell'emergenza della protezione civile risponde alle domande che riguardano il fatto che non arrivino agli esiti dei tamponi, le questioni più cliniche, quindi che riguardano invece i medici di famiglia piuttosto che l'ATS. Per questo ci sono dei numeri dedicati, quindi vi dovete rivolgere a loro. Possiamo sicuramente aiutare dei nostri concittadini che hanno bisogno di capire, ma dobbiamo fare in modo che il numero di emergenza della protezione civile non sia intasato di telefonate a cui non abbiamo la competenza per rispondere. Ed è quello che io vi ho detto. Chiedo agli assessori presenti se c'è qualche approfondimento che volessero fare. Se mi posso permettere, volevo aggiungere che ATS ha portato delle modifiche anche nella fase di comunicazione dell'isolamento perché in fase di pervenimento della comunicazione di isolamento via SMS c'è nella pagina che vi verrà aperta il link dove potrete prenotare il tampone ovviamente a seconda dei casi, quindi 7 giorni se il vaccino è stato fatto, se si è vaccinati entro i 120 giorni, oppure 10 giorni per coloro che sono vaccinati oltre i 120 giorni e i non vaccinati. Quindi anche in questo piano piano si sta correggendo il tiro, quindi dovreste trovare direttamente il link sulla comunicazione che vi viene conferita di isolamento. Tutto qua. Ecco, sempre in merito al centro tamponi e appunto al rispetto delle persone e delle regole, devo purtroppo ricordare che oggi ho segnalato un fatto grave alle autorità, il fatto che uno dei nostri volontari sia stato aggredito da una persona semplicemente per il fatto che stava spiegando a questa persona che al centro tamponi si accede, voglio dire, attraverso delle regole che devono essere rispettate. Evidentemente questa situazione è stata comunque fortunatamente si è chiusa senza una colluttazione, ma comunque il volontario è stato spinto ed è caduto. Io stesso ho segnalato alla questura il tema, ne ho parlato anche chiaramente con le autorità locali, con la polizia locale. Allora, quello che dico è innanzitutto dobbiamo essere grati ai volontari, alla protezione civile di Gorla Maggiore, alle protezioni civili come quella di Busto, a Garibaldi che ci ha dato supporto in questi giorni, alla nostra polizia locale, alla protezione civile agli amici di Gorla Minore. Queste persone sono persone che sono lì gratuitamente, che dedicano il proprio tempo agli altri e che non possono rispondere di mancanze di altri o di egoismi, piuttosto che di un individualismo imperante che dimostrano alcune persone che sono gorlesi e non gorlesi. Io direi che la prima cosa è il rispetto. Dobbiamo uscire insieme, come ha detto Draghi oggi tra l'altro in un discorso che a me è piaciuto moltissimo, da questa emergenza con unità e anche con consapevolezza. Altro tema, che cosa è successo nella notte tra martedì e mercoledì scorso? Abbiamo aspettato oggi perché, per dirvelo, i cartelli del centro tamponi sono stati spostati, divelti, le transenne buttate nei campi vicini, pertanto a questo punto i volontari al mattino del successivo si sono trovati, a del fatto di aver ricevuto durante la notte una segnalazione di emergenza perché l'idrante di fronte alla protezione civile era stato aperto, quindi perdeva acqua. Ovviamente si tratta di atti vandalici, ma i nostri volontari al mattino si sono trovati senza i cartelli, quindi in poco tempo abbiamo dovuto recuperare degli altri cartelli. Il nostro sistema di telecamere, per chi ancora non lo sapesse, funziona bene, pertanto i tre soggetti che sono colpevoli di questi atti vandalici sono stati individuati, posso dirvi che non sono dei ragazzini, sono degli adulti, hanno commesso comunque un atto vandalico che non va contro solamente il centro tamponi, va contro una comunità intera, va contro tutte quelle persone che in questo momento usufruiscono di un bene che è un bene pubblico. Il nostro comandante della polizia locale questa mattina li ha incontrati, ha verbalizzato le loro posizioni, quello che è successo è chiaramente stato ammesso, i soggetti quindi dovranno pagare 488 euro per danneggiamento dei cartelli, che devono essere evidentemente sistemati, più un'ammenda che ha una sanzione di 320 euro ciascuno, quindi sostanzialmente sono tre soggetti che pagheranno 320 euro di sanzione, a cui si aggiunge 488 euro di danneggiamento. Ecco, ovviamente trattandosi di un centro tamponi che è soggetto oltretutto ad un'ordinanza da parte della questura, di viabilità ma anche di ordine pubblico, il livello di attenzione è molto alto, quindi chiaramente dico anche alle persone che avessero anche intenzioni negative nei confronti delle persone, piuttosto che del centro, di stare molto attenti, perché il sistema di telecamere è un sistema fortunatamente efficiente, pertanto abbiamo testato più volte che i responsabili vengono sempre individuati. Ci tenevo a condividere con i miei concittadini, anche questo mi sembra giusto. Passo ad un punto successivo che riguarda un accenno a un tema, nei mesi scorsi e nelle settimane passate vi ho parlato del fatto che Regione Lombardia ci ha premiato con un finanziamento a fondo perduto di un milione di euro che riguarda il progetto di riqualificazione del nostro centro storico che parte dalle sedi delle associazioni di Via Roma, dalle sedi del Circolo Arci. Allora devo dire che è evidente che avendo partecipato a questo bando e avendo vinto, siamo tra i tre o quattro comuni, non ricordo, della provincia di Varese che hanno ottenuto il finanziamento a fondo perduto, abbiamo dovuto dare forte accelerazione alla progettazione in maniera tale da aprire il cantiere al più presto. Abbiamo presentato ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza già il progetto, lo faremo a questo punto alle commissioni e poi il progetto verrà presentato alla popolazione in videoconferenza attraverso il GM Focus, quindi sarà possibile condividerlo. Ma perché vi dico questo? Perché volevo dire che evidentemente abbiamo chiesto uno sforzo alle associazioni, alle associazioni che abbiamo incontrato all'inizio di dicembre, per la precisione il 6 di dicembre, comunicando a questo punto che avevamo vinto questo bando è che il primo lotto di questo progetto di riqualificazione del centro storico doveva partire, deve partire entro a questo punto la primavera e le associazioni presenti in quella riunione erano l'associazione Podisti, il partito Lega Salvini Premier, l'associazione Proloco, l'associazione Intesa, l'associazione Spazio Zero, l'associazione Marinai e l'associazione Fondazione Colombera, cioè tutte quelle associazioni che hanno una sede in quella struttura di Via Roma. abbiamo dato tempo fino al 31-12 per sgomberare quei locali, sono locali piccoli oggi che hanno chiaramente magari anche qualche problema di comfort, noi daremo a questo punto degli spazi più belli, degli spazi alle nostre associazioni che a questo punto si affaceranno direttamente sulla piazza, nel cosiddetto locale dell'Assunta, quindi nel locale ristrutturato nel 2005, oggi sede della Polizia Locale, che si sposterà finalmente nel municipio, quindi nel Palazzo Terzaghi. Quanto tempo avranno le associazioni per spostarsi? Abbiamo dato tempo loro fino al 31 gennaio, ovviamente sono state avvisate il 6 di dicembre, abbiamo dato una proroga eccezionale fino al 15 di febbraio, ovviamente questo con atti iscritti, abbiamo dato anche la nostra disponibilità, io ho dato la mia disponibilità personale a contattare anche associazioni del nostro territorio, della Valle Olona, per creare quel legame di rete, quel contatto, per eventualmente spostare quelle che sono le loro attrezzature, ovviamente essendo la mia posizione di sindaco, quella anche di rete con altri amici, amministratori eccetera, mi è sicuramente più facile, quindi mettiamo a disposizione anche la rete di amministratori per questo, al momento però non mi è pervenuta nessuna richiesta, per quanto riguarda il circolo Arci, che è invece il secondo lotto del primo lotto totale, ma secondo lotto per modo di dire, perché è, diciamo così, per utilizzare un termine inglese, è shiftato di qualche settimana, settimana abbiamo parlato con il gestore e abbiamo concesso una proroga fino al 15 marzo, quindi chi cerca di mistificare la realtà su Facebook dicendo che il circolo Arci è privilegiato rispetto ad altri perché avrebbe avuto una proroga di sei mesi, non dice la verità e la verità fa male, il fatto di non dire la verità, il fatto di infangare chi sta lavorando per il bene comune, non porta sicuramente al bene di una comunità e quello che chiedo ai miei concittadini è proprio questo, quello di isolare questi casi. Noi siamo una bella comunità, siamo una comunità generosa, con tante persone che danno gratuitamente il proprio tempo, isoliamo i casi che non vogliono bene a questa comunità. Detto questo, quindi, ci vedremo prossimamente per la presentazione di questo progetto che ha ricevuto questa grande premialità da parte di Regione Lombardia. Un'altra cosa che voglio ricordarvi, riguarda il bonus bebè, sappiate che con quei criteri che ci siamo detti la scorsa decina di giorni fa, nell'ultima edizione del GM News, ma anche con quei criteri che trovate sulla pagina Facebook del Comune di Gorla Maggiore, che trovate sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore, il bonus bebè per i nati nel 2021 ha scadenza il 17 gennaio 2022. Quindi per chi non l'avesse ancora fatto, affrettatevi a partecipare. Il bonus, che non è alternativo ad altre misure dello Stato piuttosto che della Regione, ha un valore di 500 euro per ogni bambino nato nel 2021. Quindi ricordatevi questa data, importante, la data è quella del 17 gennaio 2022. Ultima cosa prima di salutarci e prima di un'iniziativa di cui vi voglio parlare, un saluto al nostro caro amico Gianni Stigliano, che purtroppo oggi conclude l'esperienza della sua seconda Dakar. Gianni è caduto, Susi ha sentito la moglie, ci ha confortati sulle sue condizioni di salute, domani rientrerà in Italia, siamo onorati di avere un nostro amico e concittadino che porta il nome di Gorla Maggiore nel mondo, attraverso anche lo sport. Auguriamo a Gianni, e il mio augurio chiaramente, ma porto l'augurio di tutta la comunità, auguriamo a Gianni di rientrare presto, di rimettersi presto e di risalire presto sulla moto e quindi lo aspettiamo per un abbraccio almeno virtuale qui a Gorla Maggiore. Ultima cosa, mi piace a questo punto e mi è venuta questa idea, condividere con voi un messaggio finale, ogni volta che ci sarà il GM News vi porterò una frase che io colgo anche da un po' per dire l'aria che tira e prendo ispirazione chiaramente da quelle che magari sono cose che leggo in giro qua e là. Mi ispiro questa volta all'economista Carlo Maria Cipolla che scrive un saggio che si chiama Saggio semiserio sulla stupidità umana. Per dirvi questo, che stupida è l'azione che non porta vantaggio a te e porta svantaggio agli altri. Ci lasciamo con questa massima, vi saluto e quindi ci vediamo alla prossima grazie agli assessori presenti e grazie a tutte le persone che hanno seguito il nostro GM News. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.